Pesce spada facile e veloce utilizzando una sola padella? Ecco la ricetta! Soffriggere l'aglio con i capperi dissalati Aggiungere i pomodori pelati schiacciati con una forchetta Insaporire con origano secco e cuocere per circa 10 min a fuoco medio-alto L'origano è perfetto per questa ricetta, ma puoi sostituirlo tranquillamente Fammi sapere nei commenti con che cosa Quando il sugo è cotto, elimino l'aglio e adagio le fette di pesce spada Unisco anche l'olive nere e regolo di sale e pepe Lascio andare sul fuoco medio-alto per circa 5 minuti Poi giro le fette e ancora 5 minuti sull'altro lato Visto? Tutti in una sola padella! Ecco pronto il pesce spada alla pizzaiola!